Una violenta lita è finita nel sangue. È successo nella notte in piazza Ussicella a Monselice dove due cognati, un marocchino di 28 e un tunisino di 24 anni, si sono resi protagonisti di un'aggressione con tanto ricocci di bottiglia. Una storia che riporta quanto accaduto solo un mese fa a Padova in un locale in via Vigonovese dove un profugo nigeriano ci rimise la vita. È andata meglio il tunisino della litera di stanotte che, nonostante sia ancora sotto osservazione, se la caverà. All'origine del diverbio, questioni familiari che hanno portato prima alle mani poi a strumenti ben più pericolosi. Il marocchino ha usato il collo di una bottiglia per ferire la sua vittima. Soccorso dal suo, l'uomo è stato portato in ospedale a schiavonia dove ha già subito un intervento chirurgico al volto e al collo. In ospedale, seppur per ferite minori, ci è finito anche l'aggressore che è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. E oggi questa piazza ospita il mercato. I cittadini passeggiano, gli ambulanti lavorano come se nulla fosse. Tutti ignari di quanto accaduto, del fatto che questa piazza, questa notte, è stata il teatro di una violenta lite. Non ha sentito niente riguardo a questa lite? No. Sempre stanno a città sicura, a Monselice. Trovo strano perché mi che abito qua quasi in centro non ho mai sentito. Io non ho mai avuto paura. A me non è mai successo niente. Non sapevo di questa notte proprio.